è ancora lì ancora lì una piccola sfida mi raccomando con la mano ragazzi vai vai mancato mancato ancora in torsione eccoci qua davanti al naso davanti al naso e ancora lì che roba ragazzi che roba un piccolo sfida dai che ce l'ha fatta eccoci qua toccato niente che pare qui ragazzi i campioni diamo toccato ancora la copia di manga non paga